Buonasera, io mi chiamo Anna di Tranni e faccio parte dello staff della scuola di calcio lirico collina cabanieri di San Cusidonia a Modena. Ci troviamo qui questa sera nel Museo del Mare per l'inaugurazione con l'associazione da Ischia Lape e Mila. Abbiamo con noi questa sera il violinista Giulio Medichetti, che stasera si esibisce ancora per noi. Giulio, cosa ne pensi nel Museo del Mare? Ma è un ottimo museo, ci sono molti raccetti, quelli che io definirei archeologici. Ho visto molte cose interessanti, quindi penso che sia un buon museo, un ottimo museo. A che età hai scoperto di voler suonare il violino? Allora, tutti direbbero cinque anni, io dico verso i sedici anni. Quindi un'età avanzata per... Sì, perché i primi dieci anni sono sempre i più duri, sono sempre dove si scudia, dove si coltivano tante cose. E purtroppo tante volte lo strumento può essere da chi lo suona, vuol dire, è maltrattato un po', perché uno studia tante ore, poi dopo è anche costretto alcune volte, quindi uno si stupa di studiare, però poi un lavoro diventa piacevole alla fine. Quindi adesso come adesso è più piacevole che il primo. È passato in buio qui, è il momento critico. Bene, ringraziando Giulio Menichetti e sperando di ascoltarlo non solo stasera in inaugurazione, ma anche in altre occasioni. Sì, buona idea. Grazie.